Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, 5 persone sono finite in manette al termine dell'operazione Palladium, indagine coordinata dalla Guardia di Finanza di Arezzo che ha consentito di smantellare un complesso meccanismo di riciclaggio, evasione fiscale, compravendita illecita di metalli preziosi. Sono stati i finanzieri della Guardia di Finanza di Arezzo a scoprire una presunta frode fiscale nel settore dei metalli preziosi, oro e palladio, 5 le ordinanze di custodia cautelare eseguite nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti dagli inquirenti responsabili della frode e che adesso si trovano agli arresti domiciliari. Con l'operazione conclusa pochi giorni fa, la Guardia di Finanza di Arezzo, coordinata dalla Procura della Repubblica a questa sede, ha smantellato un'organizzazione criminale arrestando 5 persone e sequestrando, i sequesti sono tuttora in corso, circa 10 milioni di euro. Si tratta di un'imponente frode all'IVA e del conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti. L'operazione è importante perché ha tutelato essenzialmente un distretto economico che costituisce uno dei volani fondamentali dell'economia regionale, cioè il distretto Orafo a tutela degli imprenditori onesti che rispettano le regole e che pagano le tasse. Sequestrati preventivamente beni per un valore di circa 10 milioni di euro. Nel corso dell'operazione, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, sono stati eseguiti 18 tra perquisizioni e sequestri ad Arezzo, Pisa, Roma, Parma, Alessandria, Terni, Nuoro, L'Aquila e Lucca, 52 militari impiegati. Eseguite perquisizioni e sequestri anche nel territorio elvetico, a cura delle autorità svizzere attivate con rogatoria dalla Procura della Repubblica di Arezzo. Il settore era quello della commercializzazione dei metalli preziosi, quindi palladio, platino e oro industriale. Secondo gli inquirenti, il meccanismo si sviluppava mediante numerosissimi scambi commerciali intercorsi fra diverse società con sedi in Toscana, in Emilia Romagna, in Piemonte e in Lazio. Sarebbero state emesse fatture false per circa 60 milioni di euro. Così, sempre secondo gli inquirenti, l'organizzazione acquistava in nero ingenti quantità di palladio e platino di dubbia provenienza, evadendo l'IVA per quasi 10 milioni di euro e autoriciclando il provento illecito ottenuto nell'acquisto di oro puro. Attimi di paura si sono vissuti ieri sera in via Roma-Stia, dove una bambina di 8 anni è stata investita da un'automobile sul posto i mezzi dell'emergenza urgenza casentinese. La piccola è stata trasportata all'ospedale Meyer di Firenze in codice 3, è stata ricoverata nel reparto di traumatologia in attesa di un intervento chirurgico e fortunatamente non si trova in pericolo di vita. In Valdarno, invece, una lupa è stata trovata in fin di vita sul ciglio della strada, sarebbe morta a seguito delle ferite provocate da un colpo di arma da fuoco. È stata ritrovata in fin di vita a Terra Nuova Bracciolini, all'apparenza vittima di un incidente stradale, ma in realtà a ferire la lupa sarebbe stato un colpo di arma da fuoco. È successo la scorsa domenica in via Borgo delle Cave. A segnalare la presenza dell'animale, sdraiato lungo la carreggiata, un passante. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, i carabinieri hanno attivato il servizio di recupero della fauna selvatica, gestito dalle impronte del bosco. La veterinaria, arrivata sul posto, ha trovato l'animale in stato comatoso, ipotermico, non reattivo e letteralmente mangiato vivo dalle mosche. La lupa è stata così trasferita in ambulatorio, dove però a nulla sono valsi i tentativi di salvarla, è deceduta poche ore dopo. Dai successivi accertamenti è però emerso che non si era trattato di un incidente automobilistico, ma un vero e proprio atto di bracconaggio. Le radiografie hanno infatti accertato che la lupa era stata ferita da una pallottola ad una spalla, probabilmente qualche giorno prima del ritrovamento. Le ferite provocate avevano aperto la strada all'infezione, poi risultata fatale. Ricordiamo che il lupo è un animale ancora protetto e atti come questo sono condannabili, commenta la veterinaria Jessica Senza Amici, delle impronte del Bosco. Sono infatti in corso, conclude, le indagini della Polizia Provinciale di Arezzo. Parliamo adesso di accoglienza, continuano gli sbarchi. Un'emergenza che però più volte ha ribadito il prefetto di Arezzo è arginabile con lo sforzo di tutte le amministrazioni comunali. Sentiamo le sue parole nel servizio di Greta Settimelli. Lei ha detto eviteremo le tendopoli, state davvero facendo di tutto perché questa cosa venga evitata, però stanno arrivando davvero in numero importante nel nostro territorio. Beh sì, assistiamo a quello che è un fenomeno epocale. Chiaramente i numeri li vediamo tutti i giorni negli sbarchi che ci sono a Lampedusa e chiaramente in percentuale le persone che arrivano a Lampedusa devono essere accolte anche sul nostro territorio e quindi sto facendo insieme ai miei collaboratori, a tutti gli amministratori locali un grande sforzo per evitare soluzioni emergenziali. va da sé che se non si riescono a trovare situazioni e soluzioni alloggiative bisogna pensare ad altro. Come le sembra che stiano reagendo i sindaci, il territorio? No, il territorio e soprattutto gli amministratori, appunto tutti i sindaci hanno dimostrato e dimostrano e continuano a dimostrare un grande spirito di collaborazione perché il modello che io vorrei continuare a portare avanti pur nei numeri importanti è quello dell'accoglienza diffusa per cui più riusciamo ad aprire delle strutture su tutto il nostro territorio provinciale e una migliore accoglienza siamo in grado di fornire anche ai fini dell'integrazione perché non dimentichiamo che l'accoglienza che è chiaramente un obbligo per tutti noi, delle persone che vengono da scenari di guerra piuttosto che di estrema povertà e carestia, deve però tendere sempre all'integrazione. Arezzo questa mattina ha ricordato a 80 anni dalla morte salvo d'acquisto il vicebrigadiere dei Carabinieri che il 24 settembre del 43 all'età di 22 anni sacrificò la sua vita morendo fucilato dalle truppe naziste per salvare un gruppo di civili sequestrati durante un rastrellamento. Questa commemorazione ha un sapore veramente indispensabile per il nostro paese, per i nostri ragazzi perché un vicebrigadiere dei Carabinieri di 23 anni ovviamente innocente che decide di sacrificare la propria vita per salvarne altre 22 è un gesto eroico naturalmente ma è un eroismo straordinario e ordinario al tempo stesso, è una grande figura di riferimento per tutti i nostri ragazzi. Era il 23 settembre del 1943 quando il vicebrigadiere dei Carabinieri salvo d'acquisto riuscì a salvare un gruppo di civili da una rappresaglia da parte delle truppe naziste e offrì la sua vita in cambio. Oggi viene ricordato qui presso la prefettura e di fronte al monumento della resistenza a 80 anni appunto da questo importante sacrificio. Sì, allora lui si autoaccusò dell'attentato, attentato che di fatto non ci fu mai perché ci fu un incidente, i tedeschi mentre rovistavano all'interno della torre, nei locali della torre aprirono una cassetta di munizioni, all'interno c'erano degli ordigni esplosivi che erano utilizzati dai pescatori di frode e saltarono in aria, morirono due tedeschi. Questa è la storia, lo accusarono dell'attentato, accusarono inizialmente i finanzieri perché quella era una caserma della finanza e gli chiesero di collaborare per trovare i finanzieri ma di fatto invece non era un attentato, lo sapevano benissimo anche loro. Quando lui si autoaccusò nel tentativo di salvare i 22 stagi ci fu un po' di sconcerto perché probabilmente nel colloquio che lui ha avuto prima con il maresciallo e poi col tenente era chiaro che non poteva essere stato lui. Oggi tanti ragazzi parteciperanno anche poi al ricordo di questa figura presso il Salone della Prefettura, che cosa vorrebbe che rimanesse a questi ragazzi, a questi studenti di questa mattinata? A me piacerebbe che rimanesse l'idea della forza dei giovani, la forza che i giovani possono, che hanno e che quanto possono dare alla società. L'eroismo del personaggio sicuramente nel sacrificare la sua vita per queste 22 persone e portare molto onore per l'arma dei carabinieri, infatti anche premiato per il valore militare e quindi rimane proprio quest'atto eroico. Ha incarnato valori militari proprio fino all'estremo possiamo dire e non è una cosa scontata. Sicuramente lo vorremmo approfondire, anche essendo in quinta lo studieremo bene questo periodo storico e quindi ci sarà molto di cui parlare. Andiamo adesso a Castiglion Fiorentino. Nessuna centrale a biomasse o altri impianti che non siano in armonia con il territorio. Le rassicurazioni sono quelle che arrivano da Caetano Buglisi, amministratore delegato della GB, la società che ha acquistato la proprietà dell'ex azuccherificio Saddam di Castiglion Fiorentino. Ieri infatti a Palazzo San Michele si è svolto l'incontro che ha portato il proprietario dell'area a relazionarsi con il sindaco Mario Agnelli e la commissione consigliare istituita per seguire il processo di riconversione degli oltre 100 ettari dell'area che si snoda tra le frazioni di Manciano e la nave. E adesso parliamo di sanità. Dopo non poche polemiche è stata firmata dalla regione toscana un'intesa di tre anni sul trasporto sanitario con misericordie, pubbliche assistenze e croce rossa. Un'intesa che arriva dopo incontri e confronti che si sono succeduti negli ultimi mesi e settimane. Un'intesa triennale è un budget destinato all'emergenza che già nel 2023 passa da 40 a 52 milioni su 104 complessivamente destinati ai trasporti sanitari e che diventeranno 106 milioni nel 2024 e 110 nel 2025. È l'accordo siglato tra regione toscana e organizzazioni di volontariato, misericordie, pubblica assistenza e croce rossa sul trasporto sanitario. Un ristoro dunque in crescita che tiene conto dei maggiori costi a causa dell'inflazione e delle turbulenze economiche internazionali per l'acquisto dei carburanti e il rinnovo del parco veicoli, ma che aiuterà a sostenere anche le maggiori spese del personale legata agli adeguamenti contrattuali e a percorsi di stabilizzazione che la regione intende sostenere assieme alla crescita professionale dei lavoratori. L'adeguamento delle tariffe era atteso da tempo e aveva suscitato non poche polemiche e tensioni. Le associazioni di volontariato svolgono in Toscana un ruolo essenziale, ha sottolineato il presidente Eugenio Gianni, un mondo che conta 550 presidi in tutta la regione. Con questo accordo, conclude, si accresce considerevolmente l'impegno della regione sul fronte della spesa per il trasporto di emergenza. Arezzo e Perugia, unite per la Valtiberina, capitale della cultura 2026, è stato infatti il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, a recarsi in visita alla collega perugina Stefania Proietti con l'obiettivo di rinsaldare il legame dei due territori, superando confini geografici, gettare le basi per realizzare progetti e iniziative per conseguire l'ambito riconoscimento. E restiamo adesso in Valtiberina. Ieri a Sansepolcro è stato presentato per la prima volta il restauro della Natività di Piero della Francesca, finito negli ultimi mesi al centro di numerose polemiche. Io ho voluto presentare questo lavoro oggi nel contesto della National Gallery come una specie di seconda casa di Piero della Francesca. Questa è la casa di Piero della Francesca, ma siamo stati ospiti qui per presentare i lavori che abbiamo completato recentemente sulla Natività, opera che procede da questo spazio, da questa casa, che abbiamo voluto trattare con un'enorme attenzione, con un restauro assolutamente rigoroso e l'abbiamo voluto presentare proprio qui. Per la prima volta in Italia è stato presentato il restauro della Natività di Piero della Francesca ed è stato fatto proprio a Sansepolcro in una delle case del Maestro della Prospettiva. Tre le opere di Piero ospitate nella grande collezione londinese, il San Michele Arcangelo, il Battesimo di Cristo e la Natività. Quest'ultima opera, datata 1475, è stata sottoposta ad un restauro dal 2020 al 2022. È stato un restauro che ha affrontato delle questioni molto complesse perché è un'opera che ha avuto una storia molto travagliata e quindi per restituire al massimo delle possibilità quello che rimane dell'opera di Piero, di far intenderlo con un'opera integrale, non parziale, e fare un lavoro per presentarlo nel contesto anche di una collezione di opere di Piero della Francesca che è quella della National Gallery. Ad occuparsi del delicato intervento finito al centro di numerose polemiche la dottoressa Jill Dunkerton, conservatrice dei dipinti dell'Istituto Londinese. Il restauro è stato fatto con dei criteri molto ben definiti e i risultati sono direi molto positivi. Non tutti saranno d'accordo ma certamente l'opera è stata trattata con enorme attenzione. Ci ha chiarito moltissimo l'idea su un restauro apparentemente molto controverso e poi tutti i restauri sono, come voi sapete, molto controversi. Ogni qualvolta c'è un restauro, c'è un evento, c'è una discussione e per fortuna c'è un confronto. Nel finale, collegato in videoconferenza, anche Vittorio Sgarbi che ha elogiato il lavoro fatto. A Marcena, 26 nuove opere pittoriche e scultorie hanno arricchito il territorio. La terza edizione di Marcenando ha lasciato in eredità un poliedrico patrimonio di installazioni di arte contemporanea che posta all'interno e all'esterno del piccolo borgo sono entrate a far parte di un vero e proprio museo a cielo aperto liberamente fruibile da ogni persona che configura così un modello di rigenerazione, valorizzazione e condivisione dello spirito di un luogo. Una delle opere di maggior prestigio è la scultura in ferro ossidato il bersagliere in bicicletta, firmata dal maestro Alessandro Marrone in ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. E adesso la pagina dello Sporta si avvicina all'esordio in campionato per l'AMMC Servizi che domenica 24 settembre alle 18 ospiterà al Palace Portestra Luse, Baschi e Tempoli formazione che gli Amaranto affronteranno anche nel campionato di Serie B che prenderà il via invece il prossimo fine settimana. La squadra dei cocci evangelisti si dovrebbe presentare a questo appuntamento con la formazione al completo recuperando tutti gli effettivi l'amichevole sarà dunque un'opportunità per verificare l'inserimento dei nuovi arrivati nel meccanismo dell'AMMBC Servizi contro un avversario veterano della categoria l'appuntamento è le 18 al Palace Portestra Mario D'Agata Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione Arrivederci